Il fascino della nave scuola Amerigo Vespucci non tramonta mai. Era atteso da giorni in città a Salerno il veliero più bello del mondo che da questa mattina brilla nel porto di Salerno. Nell'ambito della festa del ventunesimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il veliero della Marina Militare ha attirato sin da subito centinaia di visitatori. Un veliero che può vantare tre alberi, costruito nel 1931 lungo 101 metri e dotato di 24 vele per complessivi 2650 metri quadrati, di un'eleganza invidiabile con molte parti in mogano e legno santo, autentico gioiello nato a Castellamare di Stabia dall'intuizione di Francesco Rotundi, ingegnere del genio navale che 88 anni fa ha ideato quella che è considerata la nave più bella del mondo. Negli anni tra il 2014 e il 2016 l'Americo Vespucci ha vissuto un ammodernamento che le permette ora maggiori capacità operative di bordo. Per quanto riguarda l'equipaggio, l'Americo Vespucci ospita 280 militari tra uomini e donne. Nel periodo estivo la nave diventa una scuola per gli allievi volontari e per i cadetti dell'Accademia Navale, arrivando a 400 unità a bordo. Dal 2007 la nave è anche ambasciatrice dell'Unicef. A dare il benvenuto a tutto l'equipaggio e a far visita alla nave vero orgoglio della marineria italiana, invidiata da tutto il mondo, questa mattina il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Giuseppe Menna. È una nave che ci invidia a tutto il mondo, grazie a Dio, oltretutto è una nave frutto dell'intelligenza, permettetevi un attimo, di campanilismo, frutto dell'intelligenza campana, è stata costruita a Castellammare di Stabbia e quindi veramente è un gioiello che ci invidia tutto il mondo. Vedere il Vespucci e non rispettare il mare non so come uno possa fare.